Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video anteprima del sito tecnologiamo.com Oggi andremo a fare l'unboxing del Playstation Move Precisamente del pacchetto contenente il Move, la telecamera e lo starter disc Che comprende diverse demo del Move Che dopo andremo a giocare direttamente sulla Playstation Allora, noi non abbiamo ancora aperto la scatola Ora lo facciamo per la prima volta con voi Andiamo a togliere lo scotch ai lati Ok E andiamo ad aprire Eccoci qua Qua sul lato troviamo il Move Andiamo a darlo fuori Eccolo qua Sicuramente abbastanza leggero Pensavamo di peggio Eccolo qui Già carico Già carico ma probabilmente dovremmo caricarlo per un po' Eccolo Poi Ok Abbiamo il cavo USB da attaccare Alla console E la telecamera Allora la telecamera la prima volta che la vediamo Ha un microfono Ha un microfono molto grande Probabilmente si potrà utilizzare riconoscimento vocale in futuro Abbiamo l'obiettivo Il piedistallo che è regolabile Solo orientabile non in altezza E in più abbiamo questo tipo di levetta sull'obiettivo Che passa da blu a rosso Non sappiamo ancora cosa vuol dire Poi lo analizzeremo insieme Qua abbiamo le diverse garanzie Il manuale E il manuale di installazione presumiamo Allora Per il resto vediamo C'è ancora un cavetto che è il laccetto Come ci ha insegnato la Wii Per non farci sfuggire Il Move tra le mani Dalle mani Allora Sembra tutto Adesso faremo un altro video per il montaggio Ci rivediamo qua tra un po' Ciao